ciao a tutti oggi continuiamo con gli esperimenti dei charm acquistati su aliexpress l'altra volta avevo fatto vedere i charm di bamoer che li avevo montati qua sul suo fill devo dire che stanno tenendo molto molto bene non è successo nulla non sono diventati neri finora ed è passato circa due settimane più o meno e li sto portando e appunto non è ancora successo nulla sono arrivati dei nuovi charm e sono di wastu vi ho sempre detto che questi due marchi sono più consigliati di aliexpress quindi ho acquistato anche qua dei charm che non sono imitazioni di pandora ma sono proprio charm della loro linea mi hanno messo anche un regalo che è un piccolo punto luce sapete quelli che andavano di moda tipo dieci anni fa con il nastrino trasparente da girocollo è esattamente la stessa cosa è un piccolo punto luce credo che sia totalmente tarocco anche la montatura non mi sembra per nulla argento vabbè offerta regalo lo accettiamo volentieri vi faccio vedere invece man mano che charm ho preso mi hanno spediti con la raccomandata e ci hanno messo circa un mesetto allora questi qua li ho presi proprio perché erano differenti da quelli di pandora e mi sembravano molto 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 belli e il primo già dal primo mi sembra che sia proprio bello 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 quindi vi faccio uno zoom e iniziamo a vederli meglio allora il primo che ho voluto acquistare è questo qua è un pendente che a questo pesciolino marino smaltato mentre sotto a una specie di corallo con delle conchigliette in argento anche l'anellino è in argento e su questo vediamo sì c'è il marchio e c'è la solita virgolina non si vedrà mai c'è scritto 925 s 925 con una strana virgolina ed è esattamente uguale sia di qua che di qua se sentite la voce nasale o qualcosa di che non va è perché ho mal di gola raffreddore eccetera quindi è un po così comunque questo è molto 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 carino anzi è molto particolare molto carino anche gli anellini sembrano molto solidi e sono saldati non sono chiusi e semplicemente ma sono saldati come i charm di pandora quindi questo era il primo pesco altro diamo il prossimo come sempre questi quali avevo presi con i saldi di agosto quindi se vi possono interessare mi piacciono magari puntate ai saldi di novembre iniziate a metterli nel carrello e aspettate i saldi di novembre questo è un altro pendentino ed è una girandola e anche lei devo dire che è fatta molto bene c'è tutti i castoni delle pietre che mi sembrano proprio fatte bene e molto forti come vedete ogni lato della girandola ha un colore differente questo è giallo queste rosa queste azzurre queste verde il centro è russo ha un anellino più grosso rispetto all'altro e forse qua riesco anche a farvi vedere bene il marchio ha proprio questa sorta di virgolina con s925 anche questo è saldato ha un po' un anellino un po' sottile rispetto all'altro però è saldato dietro fatto così ha tutti i forellini anche qua tipo pandora per far brillare meglio le pietre devo dire che anche questo è fatto molto molto bene allora di tutto questo se ci sono ancora disponibili vi metto i link giù nell'info box come sempre altrimenti cercate su aliexpress direttamente il nome wastu e vi esce il negozio e tutto quello che ha in vendita quindi se non riuscite a trovarli così potete fare anche in quest'altro modo prendo il prossimo e mi sa che è anche l'ultimo ah sì è anche l'ultimo è un altro pendentino mi sono focalizzato sui pendentini perché dell'altro di bamoer avevo preso tutti i charm normali invece qua ho voluto prendere i pendentini e questo qua non potevo non prenderlo perché appunto a questo coricino smaltato rosa solo da un lato e sotto a questa medaglietta con il foro a forma di gattino molto bella anche lei e anche dall'altra parte esattamente uguale e bombata allo stesso modo non è concava è proprio bombata uguale e l'anellino intorno al bracciale a tutti gli zirconcini almeno loro lo vendono come zirconi quindi dovrà spero che siano zirconi e argento quindi spero che sia argento non l'ho mai fatto testare se qualcuno di voi ha fatto testare i charm di vostro o bomber in qualche gioielleria e sa per certo che sono argento lo scriva sotto perché in tantissime mi hanno chiesto questa cosa e io non l'ho mai fatta verificare questa cosa perché non sono allergica a nulla però mi rendo conto che ci sono persone che appunto sono allergiche a veri metalli materiali e cercano l'argento puro quindi non sono sicura io voglio solo testare la durata e se diventano neri rossi cambiano colore eccetera o se sono molto molto validi devo dire che anche questo qua è davvero davvero molto carino quindi io andrei a montare anche loro sul bracciale così inizia anche il test per loro andiamo vado a smontare tutto e a inserirli nel bracciale così vediamo anche come stanno ed eccoli qua montati sul bracciale e per ora a me piacciono davvero tanto io vi consiglio di dare un occhio a questi due venditori per ora c'è anche bizarre perché appunto hanno qualcosa di carino ma che non sia proprio uguale a pandora anche perché altrimenti sembrerebbe un po come vorrei ma non posso ma questi qua appunto sono devo dire molto originali differenti e hanno abbastanza fantasia devo dire e se superano il test di castoni eccetera devo dire che sono ultra consigliati a questo qualche pieno di zirconi ancora li ha tutti inseriti quindi se volevate un piccolo aggiornamento prima del video ufficiale di test finale questo qui è ancora perfetto ok ho terminato questo video spero che vi sia stato utile se conoscete degli altri venditori di charm anche su aliexperts che magari si avvicinano un po ai saldi di novembre novembre scrivetemelo così gli do un occhio e ciao a tutti alla prossima